Credo che Gramsci fosse l'unico di tutto il partito che cercasse di conciliare teoria e pratica a proposito dell'emancipazione della donna. In casa dei compagni era evidentemente dappertutto la stessa cosa. Il marito lavorava per il partito e la moglie faceva i mestieri di casa. E lui, quando andava a casa dei compagni, andava in cucina ad aiutare la moglie e asciugava i piatti, con grande indignazione del compagno che l'aveva invitato, il quale non pensava neanche lontanamente di asciugare i piatti alla moglie. E lui allora sosteneva che, come in regime capitalista la divisione del lavoro serve soprattutto ai capitalisti per sfruttare meglio gli operai, anche nelle famiglie c'è una divisione del lavoro e purtroppo, aggiungeva, anche nelle famiglie dei compagni. Per cui al marito il lavoro politico, cioè di un gradino più alto, e alla moglie anche se compagna la cucina, i piatti da lavare, i bambini da riguardare. E non c'era pericolo che il marito compagno o operaio traesse allora sul terreno familiare e personale le conseguenze che dal punto di vista marxista si traggono sullo sfruttamento degli operai e sulla divisione del lavoro in regime capitalista. Perché la divisione del lavoro è anche uno strumento tecnico per fare andare avanti la produzione, ma però il capitalista se ne serve soprattutto per aumentare lo sfruttamento e in casa operai e anche compagni fanno la stessa cosa. Ecco perché lui quando andava in casa dei compagni andava in cucina e quel poco che sapeva fare, asciugare i piatti, lo faceva. E intanto chiacchierava perché non era d'accordo che i nostri compagni non cercassero di parlare con la moglie, cioè non cercassero di darle un'educazione. Quando Gramsci faceva osservare queste cose i nostri compagni gli rispondevano tanto non capisce niente. Lui invece non pensava mai che anche una casalinga non capisse niente. Per questo lui voleva sempre che la moglie stesse lì quando lui parlava con il marito e si rivolgeva a lei cercando di trascinarla nella conversazione.